diane mello ex concorrente del grande fratello vip se la sarebbe presa con giulia salemi la modella brasiliana in una diretta instagram si è scagliata contro quelle persone che ha smesso di seguire sui social il motivo pare che diane si sia accorta che non siano più sue amiche e tra queste ci sarebbe anche l'ex opinionista social del grande fratello vip lo sfogo di diane mello centra giulia salemi io do una chance cerco sempre di riprendere i rapporti che si sono persi dare valore a queste persone e poi li trovi nella festa gli dici ciao e questa persona scappa via perché la tua presenza dà fastidio o mette nell'ombra il loro personaggio a causa della tua luce sono schifata fanno schifo sono state le parole di diane mello nel suo sfogo social a ricostruire quanto sarebbe successo ci ha pensato bc.it la modella brasiliana avrebbe visto l'ex amica giulia salemi alla milano fashion week ma quando avrebbe provato a salutarla quest'ultima avrebbe fatto finta di non vederla scappando via nel suo sfogo diane mello non ha fatto nomi ma pare proprio che possa essersi rivolta giulia salemi che sarebbe scappata per non essere messa in ombra dall'ex amica ecco quindi che diane avrebbe rimosso il follo all'ex gfina dai social da capire se nel suo sfogo la modella si stesse effettivamente riferendo a giulia salemi quanto riportato è comunque qualcosa da prendere con le pinze l'unica cosa certa al momento è che diane e giulia non si seguono su instagram diane mello e i rumor sulla nuova fiamma diane mello ad ogni modo era recentemente stata al centro di gossip una recente storia instagram della modella brasiliana poi rimossa aveva lasciato pensare che potesse aver ritrovato l'amore un uomo misterioso infatti era apparso nelle foto condivise da diane e i fan più attenti sfruttando il dettaglio del gioiello indossato da entrambi erano riusciti ad individuare colui che potrebbe essere la nuova fiamma della modella